Strani rumori nella notte vi disturbano? Provate un senso di terrore in cantina o in soffitta? Vi è capitato di vedere spiriti, spiritelli o fantasmi? Se la risposta è sì, non esitate ancora. Prendete la cornetta e chiamate i professionisti. Chiamate gli acchiappafantasmi. Siamo pronti a credere in voi. Opportunità di franchising. Chiamateci. Grossel, sei dalle parti di Rala Orientale? Sì. Alla nuova moto su Goddard? Sì, perché? Qualcosa ti sta venendo incontro. Aspetta. Ho sentito qualcosa. Vado a dare un'occhiata. Vuoi sapere una cosa inquietante? Leggevo di quello Shandor. Dizio che ha donato la roba su Goddard. Era un fanatico dell'occulto. Sei soprannaturale. Un tipo strano. Perché non ne parliamo in un altro momento? Qualunque altro momento. Cribbio. Clay, non può stare qui. Ferma! Cribbio. Grazie a tutti